Buongiorno a tutti e benvenuti al video con le vostre pagelle, quelle che avete votato voi sul community tab del mio canale. Allora, sono un po' in difficoltà, lo ammetto. I voti, come sapete, erano il voto 4, cioè la valutazione assolutamente insufficiente, voto 5, niente di che, voto 6, sufficiente, voto 7, buona performance, voto 8, eccellente performance. Questo per quanto riguardava la regia, la direzione e i 6 protagonisti. La cosa che mi ha dato da pensare è che sono molto contento di aver fatto questo sondaggio e tra qualche minuto ve ne darò i risultati, che ribadisco sono solo vostri, ecco, la mia valutazione non c'entra assolutamente nulla in questi voti. La cosa quindi che mi ha veramente stupito è che all'interno di tutte le categorie che abbiamo preso in considerazione, cioè la regia, la direzione e i 6 cantanti principali, almeno una persona ha detto che era voto 4, almeno una persona ha detto voto 5, almeno una voto 6, voto 7, voto 8. Per cui ci siamo trovati, per fare dei calcoli trigonometrici molto complessi per stabilire la media, ma non è questo ovviamente il problema, il problema principale è di restituire attraverso questa votazione un voto che sia veramente il sentimento del pubblico. E sono veramente in difficoltà quando vedo che lo stesso cantante da qualcuno è stato votato 4 insufficiente, quindi assolutamente sufficiente, da qualcun altro è stato votato 8, cioè eccellente. Perché? Allora, se sulla regia e forse per certi versi anche sulla direzione può esserci una maggior discrezionalità, sul canto la mia personalissima opinione è che dovrebbero esserci delle valutazioni abbastanza oggettive, cioè lasciamo ovviamente da parte il gusto personale e su questo l'opinione di tutti è valida, ma se dai eccellente a qualcuno vuol dire che non ha sbagliato niente. Allora, per riportarla in termini calcistici, come abbiamo fatto un po' di volte in questi giorni che abbiamo passato insieme, non puoi dare 8 a un attaccante che ha sbagliato 2 o 3 calci di rigore. Poi magari hai fatto delle altre cose buone, magari hai fatto segnare gli altri, quello che volete, ma se hai sbagliato 2 o 3 calci di rigore non gli possiamo dare 8 in pagella. E per cui, insomma, forse bisognerà per le prossime volte stabilire dei parametri, come dire, delle regole di ingaggio di partenza in cui stabiliamo che va bene, volete dare 4, date 4, a una performance che deve essere stata funestata da degli infortuni vocali, se parliamo del cantante, gravi e viceversa. Se diamo 8 dobbiamo valutare una performance che è stata almeno tecnicamente ineccepibile. Poi, ripeto, sul gusto, sulle dinamiche, sul fraseggio, sullo stile, sulla vocalità, possiamo confrontarci e anche scontrarci se necessario e avere anche una valutazione di giudizio che si discosta abbastanza. Però capite che valutare la stessa performance 4, valutare la 8, fosse da luogo a qualche problema. Comunque, ho già parlato abbastanza. Allora, alla regia, ho fatto la media ovviamente di tutti i voti in base alla percentuale di voti che hanno avuto, la regia è stata valutata 5,4, quindi sotto la sufficienza. Voto che tutto sommato mi trova abbastanza d'accordo, perché nell'ambito di quello che era una regia tradizionale, che nel complesso è stato apprezzato comunque che la scala, ovviamente il voto che vi do, il numero che vi do e il voto. Poi ci sono anche tutti i commenti e quindi farò anche una specie di riassunto dei vostri commenti. Per cui la maggior parte di voi ha apprezzato il fatto che ci fosse una regia tradizionale, non una regia attualizzata del Don Carlo, però fondamentalmente tutti ne hanno veramente detto che era eccessivamente statica, era noiosa, era monotona e quindi mediamente non è piaciuta. L'avviazione dell'orchestra è stata valutata 6,76, potremmo dire un 7 meno, qualcosa del genere. Quindi comunque insomma una valutazione buona, nel senso sotto il 7, che vi ricordo essere il voto buono, diciamo 7 meno diciamo. Io ho sempre molte difficoltà a giudicare qualcuno che indica l'orchestra, perché conosco bene che difficoltà ci sono dietro a un'esperienza del genere. Secondo me il voto di Shai, il voto mio personale, è anche un po' superiore, secondo me, considerando 8 come massimo, io credo che 7 dovrebbe essere una valutazione mia, però non ci siamo scostati poi di tanto. Elina Galancia ha preso 6,94, praticamente 7, quindi buona, devo dire. E anche qui comunque ci sono state un 2% dei voti che le hanno dato 4 di voto. Quindi il 2% delle persone che ha votato l'hanno reputata assolutamente insufficiente, mentre il 24% è valutata ottima, come media totale 6,94, quindi 7, come dire, valutazione che mi trovo assolutamente concorde. La signora Netrebco, 6,24, quindi un 6 più, diciamo, una piena sufficienza. Qui sono stati bene il 9% la valutata assolutamente insoddisfacente e però un 11% la valutata eccellente, come media poi del resto. Poi se volete andare a fare i calcoli, tornate su Community Tab, i voti sono lì, li lascerò lì, non li cancellerò. Tenete presente solo che potrebbero esserci delle differenze tra il mio calco e il vostro perché io ho chiuso i voti e magari qualcuno ha votato dopo che vi ho chiuso le votazioni e ovviamente quella valutazione non è compresa. Quindi può darsi che cambi di qualcosa, però insomma potrebbe cambiare di qualche decimale, ma la valutazione è assolutamente questa. Grande Inquisitore, 6,59, quindi un 6,5 abbondante. Anche che c'è stato solo l'1% lo ha valutato da 4, quindi l'ho valutato insoddisfacente, totalmente insufficiente. Sto leggendo il foglio. Ebbene il 18% l'ha valutato da 8, quindi ottimo. La media degli altri voti è 6,59. Credo voto realistico, io forse avrei dato anche un qualcosino in più, però insomma non si discosta tanto da quello che è il mio pensiero. Eccoci qua. Allora, Francesco Meli. Francesco Meli la media è stata 5,26, quindi decisamente insufficiente. Quindi tra il niente di che, che era il 5, e il sufficiente che era il 6. Ben il 32% dei voti, cioè tantissimi ragazzi, gli ha dato come voto 4, quindi voto assolutamente insufficiente. E qui abbiamo appunto di base, però il 2% è dato come voto 8, voto ottimo. Ora, immaginando che non ci siano in questa votazione parenti o amici, è chiaro che, capite che mi trovo in difficoltà a dirvi che qualcuno gli ha dato 4, qualcun altro gli ha dato 8. Cosa ripeto che è successo per tutte le categorie, per tutti i 6 cantanti, più la direzione d'orchestra e la regia. Però, insomma, questo è. Forse, ripeto, le prossime volte magari stabiliremo dei paletti, almeno tecnici, cercando di essere, che possano rendere, come dire, la valutazione quanto più oggettiva possibile. Salsi ha preso 6,37, quindi una sufficienza piena. L'11% l'ha valutato ottimo, quindi comunque tanti, e il 3% è valutato insufficiente. Comunque in totale direi 6,37, mi sembra una piena sufficienza. Qualcosa in più, prende Pertusi con 6,44. Anche qui col bene il 16% che ha valutato ottima la sua performance, e il 5%, neanche pochissima, che l'ha valutata assolutamente insufficiente. Ecco, anche qui, secondo me, la valutazione, soprattutto, è leggermente superiore, anche tenendo conto del fatto che stava bene, non stava bene, metto via il foglio con gli appunti che ho preso. Dipeto, anche valutando il fatto che non era sicuramente in gran forma, ecco, forse dovremmo tenere anche questo presente, insomma, dopodiché, io credo che ci sia una cosa importante. In questi giorni c'è stato un piacevole confronto, dibattito, in un paio di casi anche, non voglio dire scontro, perché sapete, io non amo lo scontro, non amo gli insulti, e quindi, insomma, e non voglio questo mio canale, ci siano, voglio sul mio canale, ci siano tanta, come dire, tanta conversazione, tanto confronto dialettico, anche scontro, purché resti ovviamente nei limiti dell'educazione e del buonsenso anche. Anche perché, insomma, se cominciamo a insultarci, perché la vediamo diversamente sulla performance di un cantante, guai se la buttiamo in politico, sulla religione, allora veramente, andiamo veramente a scannarci. Un voto, certo, dovrebbe essere, credo io, principalmente, una, come dire, una relazione, dal punto di vista tecnico, di quello che è successo, principalmente, ha cantato bene, o ha cantato male, in sostanza. Dopodiché, è chiaro che andiamo, superata la fase tecnica, scusate, andiamo in un altro tipo di valutazione, ben più soggettiva, e ben più difficile da valutare, ovvero sia l'emozione. Cioè, alla fin fine, al netto di qualcosa che può essere stato pulito, sporco, lacuto, sbagliato, non sbagliato, la dinamica, la messa di voce, tutto quello che volete, però, alla fin fine, la domanda che dobbiamo farci è, la performance del cantante, o della cantante, mi ha emozionato, o no? Ecco, se la domanda è questo qua, a risposta secca, come dico sempre io, con una pistola puntata alla tempia, devo dire che a me, personalmente, non ha emozionato, nessuno, dei protagonisti, nessuno dei suoi protagonisti, e con tutto che ho ritenuto, alcune performance, come quello, della garancia, decisamente buone, dal punto di vista tecnico, ecco, però, è vero, chi diceva, in uno dei commenti, uno di voi diceva, che è impossibile valutare le voci, ascoltandole per radio, per televisione, amico mio, o amica mia, perdonami, non ricordo, è vero, hai assolutamente ragione, una valutazione andrebbe fatta, live, però, detto questo, ovviamente, insomma, non è possibile, non è possibile che tutti noi, si assista, alla prima della scala, evidentemente, quindi, perché non sfruttare, perché non sfruttare, la possibilità di vedere in televisione, e di confrontarci, di mantenere comunque, come ho detto, in uno dei video passati, viva l'opera, anche tramite il nostro, il nostro confronto, insomma, ecco, per cui sono d'accordo, che le voci andrebbero sentite, dal vivo, perché poi comunque, soprattutto quando c'è una ripresa televisiva, ci sono i microfoni, ed è inevitabile, non potrebbero non esserci, altrimenti, non si potrebbe fare una ripresa televisiva, se non ci fossero dei microfoni, e quindi può darsi, anzi, è sicuro, che certi rapporti, potrebbero essere stati sfalsati, soprattutto, per quanto riguarda, il corpo della voce, che non ci rende mai, non rende mai giustizia, alla realtà, né su disco, né tantomeno, ancora meno in televisione, ma solo esclusivamente, dal vivo, cioè quando un cantante passa l'orchestra, o non passa l'orchestra, e quando la passa, se la passa in maniera importante, questa è una valutazione che si può fare, solo ascoltandola al vivo, e in nessun'altra, in nessun'altra situazione, oltretutto, teniamo presente, che questa è una valutazione, anche che si, che va poi nella valutazione del direttore d'orchestra, cioè il direttore d'orchestra, bravo, deve sapere sempre, come tenere l'orchestra sotto i cantanti, perché comunque, al servizio dei cantanti, per non coprirli, insomma, e quindi, insomma, questa è una dell'abilità del direttore d'orchestra, deve essere anche questa, allora, da quello che si è sentito in televisione, questa funzione è stata svolta, egregiamente da Shea-I, ovviamente, da quello che si è sentito in televisione, può darsi che, forse, dal vivo, qualche equilibrio dinamico, tra l'orchestra e i cantanti, potrebbe essere stato diverso, ma io giudico quello che ho sentito in televisione, che abbiamo segnito tutti in televisione. Bene, chiudiamo qui, allora, il video delle vostre pagelle, vi ricordo domani alle 17, la live con Corinne Baroni, che ci racconterà, come avete già, mi immagino, visto nel video programmato per domani alle 17, i rapporti del direttore artistico, con i cantanti, con le istituzioni, con le agenzie, e quant'altro. Attenzione, perché se avete delle domande, e ne avete tante, perché se le scrivete a me nei commenti, vuol dire che avete tante curiosità, ma il direttore artistico, cosa fa, cosa non fa, chi può comandare, e da chi prende ordini, eh, se partecipate alla live domani, avrete risposta a tutte queste domande. A domani. Grazie.